Nuove creeper e la maggioranza del sindaco di Barletta, Mino Canninto, l'assessore all'ambiente sport Ruggero Passero, ha rassegnato le dimissioni dal suo incarico in giunta, mentre cinque consiglieri comunali, Ruggero Di Corato, Adelaide Spinazzola, Pino Rizzi, Massimo Spinazzola e Vincenzo Laforgia, garantiranno d'ora in avanti solo un appoggio esterno all'amministrazione. In un documento a loro firma, indirizzato al sindaco Cannito, chiedono una decisa inversione di rotta nella gestione amministrativa e che venga fatta chiarezza all'interno di una coalizione che negli ultimi mesi ha mostrato spaccature preoccupanti. Il riferimento più recente è alle riunioni di maggioranza convocate la scorsa settimana per discutere di tematiche importanti quali il futuro della municipalizzata Barsa, puntualmente rinviate per l'indisponibilità di diversi consiglieri. Ci si attendeva che l'argomento fosse dibattuto nel Consiglio Comunale andato in scena oggi pomeriggio, ma il sindaco non ha ritenuto di dover fare delle comunicazioni alla città. In serata è previsto un tavolo politico per capire se esistano o meno i margini per ricomporre la frattura e ricompattare la maggioranza.